Ragazzuoli, ciao a tutti, dopo esserci concentrati per qualche giorno solo ed esclusivamente sulle questioni calcistiche e l'esito non è che sia stato proprio dei migliori, torniamo un attimino a parlare delle questioni extracampo dove obiettivamente anche lì, quattomeno al momento, fino a prova contraria, non è che ci siano proprio questi grandi sorrisi a 32 denti in attesa ancora delle motivazioni del collegio di garanzia del CONI sul perché ha deciso di accogliere il ricorso con rinvio spiegando un pochino nel merito tutto ciò che hanno approfondito, quattomeno si spera, seguendo anche quelli che saranno i consigli da dare alla Corte federale affinché riesca a dare delle motivazioni reali, concrete e solide riguardo magari eventuali punti di penalizzazione alla Juventus e quant'altro ma appunto qui tocca aspettare le motivazioni del collegio di garanzia del CONI che sulla carta non è che dovrebbero arrivare tra poi così tanto tempo e dato che comunque ci sono diverse questioni che ormai nel corso dei mesi abbiamo quasi imparato a memoria tra plusvalenze, partnership, caso stipendi e quant'altro Tutto Sport ha intervistato Sergio Santoro che già diverse volte ho portato su questo canale non lui fisicamente ma le sue parole che sono state dette in giro tra giornali, social e compagnia cantante ed è indubbiamente una fonte autorevole perché è sempre giusto ricordare che si parla di un ex presidente del Consiglio di Stato della quinta sezione, di un ex presidente della Corte federale della FIGC quindi insomma di tutte quelle sedi che in un qualche modo interessano la Juventus per un motivo o per un altro ecco e indubbiamente è una persona che sa di che cosa si va a parlare ed è consapevole di quello che sta dicendo nonostante è vero l'ultima volta che l'ho portato qui Sergio Santoro ha parlato di un annullamento senza rinvio anche se c'è da dire che per certi aspetti il rinvio ha stupito molti è sembrato quasi un decidere di non decidere anche perché avrebbero dovuto sostanzialmente senza troppi giri di parole sputtanare l'operato dei colleghi che non è mai cosa buona e giusta figuriamoci poi quando tutto questo andrebbe in un qualche modo a favore della Juventus quindi ne siamo tutti quanti consapevoli di questo e andiamo avanti per carità perché all'interno di questa intervista a tutto sport ovviamente Sergio Santoro ha toccato diversi temi come quello dell'afflittività come quello dell'articolo 4 come quello del Tar insomma diverse cose che sono state già trattate in un qualche modo e la prima domanda che gli viene posta riguarda l'ipotesi patteggiamento perché è da qualche giorno che si dice che la Juventus in un qualche modo anche per far terminare tutto quanto in questa stagione per avere quindi un campionato 2023-2024 non falsato già con la consapevolezza di ciò che si andrà o meno a fare con quindi anche la possibilità di programmare Sergio Santoro ha detto se fossi il difensore del club lo sconsiglierei sia a livello sportivo che penale perché non ci sono i presupposti per il patteggiamento siamo ancora in una fase embrionale il giudice penale avrà mandato a quello sportivo la mole di intercettazioni senza alcun commento però soltanto la sentenza accerta in via definitiva il carattere illecito delle plusvalenze e della manovra stipendi purtroppo le due giustizie hanno tempi diversi ed è stato inopportuno penalizzare in questo campionato perché la questione è subiudice e questa cosa è stata detta già in lungo e in largo da tanti ovvero che nel senso anche qualora no venisse certificato venisse riscontrato in via definitiva il fatto di essersi comportato in un determinato modo fallo magari quando hai la certezza quando sei sicuro e quando effettivamente ha un senso ciò che vai a decidere a differenza di ciò che è stato in questo caso dato che tutto quanto è arrivato in un momento abbastanza embrionale come ha detto anche Santoro della situazione e quindi non è neanche la certezza della colpa della pena poi possiamo star qui a dire che se un qualcosa riguarda la Juventus è sempre colpevole comunque a prescindere e va bene ma questo per i tifosotti da bar e da social non per tecnicamente la giustizia anche se abbiamo visto che in diversi se ne sono anche proprio ampiamente sbattuti maroni quindi di questo ne dobbiamo semplicemente purtroppo solo prendere atto però di fatto lui sconsiglia il patteggiamente qui vedremo onestamente che cosa deciderà di fare la Juventus di per sé anche perché da un certo punto di vista posso immaginare il fatto che anche l'idea di fare una stagione 2023-2024 sulla falsariga di questa possa essere abbastanza logorante per la squadra per i tifosi per la società per la programmazione per il futuro quindi non lo so onestamente non lo so vedremo semplicemente che cosa deciderà di fare la Juventus in base anche a quello che emergerà da tutte le varie situazioni la Corte Federale d'Appello stavolta dovrà andare a fondo quando il collegio ti dice di motivare impone di andare a cercare le ragioni di quegli illeciti ma quelle ragioni nelle motivazioni della sentenza di revocazione non c'erano del resto mi chiedo come si possa togliere 15 punti sulla base di intercettazioni una domanda che effettivamente ci siamo posti un pochino tutti quanti tranne evidentemente chi ha deciso di farlo magari anche non lo so per un gusto personale non lo so questo ovviamente non lo so penso che la Corte Federale d'Appello sia andata molto oltre le proprie possibilità la giustizia deve usare logica e buon senso ma le ultime due parole quantomeno tenderei ad escluderle quantomeno per questo caso qui per l'amor di Dio poi a livello generale non si può parlare ma per quanto riguarda questo caso qui direi che insomma logica e buon senso siano state proprio all'ultimo e penultimo posto di questa vicenda e e basta cioè penso ci sia ben poco da aggiungere e passare al concetto di afflittività della sanzione è un concetto da medioevo del diritto e della civiltà perché la pena non deve essere afflittiva ma rieducativa l'ho scritto in decine di sentenze spiegando che la pena non deve far chiudere la società o l'azienda ma deve servire a rieducare affinché in futuro non vengano commessi ulteriori comportamenti illeciti e qui ci può stare traducendo questo principio nella giustizia sportiva ci sono stati illeciti sul piano delle plusvalenze le sanzioni non devono essere afflittive ma devono tendere a migliorare il mondo del calcio e non a metterlo fuori uso è veramente vergognoso per un giurista moderno il concetto di afflittività va respinto è indice di arretratezza della giurisprudenza se una vicenda come questa avesse convolto un club meno importante della Juventus rischiava di portarlo al fallimento il club bianconero alle spalle forti e riuscirà a superare il momento anche meglio di quando fu fatto retrocedere da autorità in serie B e poi mi chiedo come le plusvalenze e la manovra stipendi siano ritenuti illeciti sull'attività sportiva anche se effettivamente sergione tutti hanno spiegato che fossero questioni amministrative non sportive poi quando si decide effettivamente di buttarli in cacciara lo fai senza troppe domande e senza troppi pensieri anche perché altrimenti poi come hai detto tu stesso prima sarebbero dovuti intervenire logica e buonsenso che ricordiamo sono all'ultimo e penultimo posto di questa vicenda anche se proprio riguardo il discorso legato all'afflittività anche altri esperti di diritto sportivo hanno spiegato come di fatto soprattutto poi ha campionato in corso l'afflittività e un qualsiasi punto di penalizzazione perché durante una stagione se tu hai tot punti e magari nella partita successiva te ne vengono tolti due, tre, quattro, cinque c'è comunque dell'afflittività perché ti tolgono comunque dei punti che di fatto hai legittimamente conquistato sul campo a bocce ferme quando tutto quanto è concluso magari si potrebbe fare un ragionamento differente ma a stagione in corso come è stato in questo caso l'afflittività può essere banalmente anche due punti perché sono due punti che alla fine di una stagione ti potrebbero costar caro ma vabbè questo è comunque un altro paio di mani che poi torna a parlare del famoso articolo 4 anche Sergio Santoro che spiega per l'ennesima volta come se ormai no non lo sapessimo un pochino tutti quanti l'articolo 4 è una norma in bianco fanno bene gli avvocati della Juve a insistere sulla necessità di una tipizzazione dell'illecito come si fa a dire che una plusvalenza possa avere effetti sul campionato siamo al paradosso poi lui ha fatto un paragone su qualcosa che è capitato a lui riguardo la vendita di biglietti dello stadio a organizzazioni criminali noi abbiamo penalizzato le società ma non sul punteggio perché quegli illeciti non attenevano i risultati sportivi bensì al fatto di vendere biglietti a persone non affidabili anche in questo caso le plusvalenze sono fatti contabili come le manovre stipendi e non hanno inerenza sul piano sportivo cosa che è stata detta da esperti in lungo in largo evidentemente boh io posso capire che quando è la possibilità di mettere così nel mezzo un articolo che di fatto non c'entra nulla a volte no anche qui pensando male se c'è la Juventus di mezzo perché non farlo ma in tanti hanno spiegato che sia gli stipendi che eventualmente no anche le plusvalenze sono cose inerenti al bilancio all'aspetto amministrativo al famoso articolo 31 che prevede un'ammenda e non punti di penalizzazione nei confronti della squadra eppure qui continuano tutti quanti a sbattercene i coglioni e quindi uno più che prenderne atto cosa deve fare soprattutto se è uno che sta di fatto solamente subendo senza diritto di replica le questioni come per esempio i tifosi e non tanto la società che mi auguro abbia effettivamente un diritto di replica nonostante sia stato tolto il diritto di difesa e questo è un altro paio di maniche e anche per quanto riguarda il ricorso al TAR dice sono delle partita scacchi io da avvocato lo farei per chiudere il discorso a monte perché ci sono molti elementi a favore di ottenere l'annullamento il fatto che abbiano separato le responsabilità degli ex dirigenti avvalori il principio di non ammissibilità della responsabilità oggettiva separare i due profili significa che la responsabilità del dirigente non incide su quella della società che va valutata autonomamente e qui magari qualche indizio in più ce lo potrà dare il collegio di garanzia del CONI con le motivazioni che ancora devono essere pubblicate per quanto riguardi il discorso dei ricorsi anche l'avvocato Giorgio Spallone aveva detto che insomma il fatto che riunisci tutti quanti i ricorsi in un'unica botta potrebbe essere anche già solamente questa causa di annullamento tra le altre cose ha detto lui e quindi insomma vedremo che cosa uscirà che cosa emergerà anche perché di fatto poi ormai siamo arrivati a maggio quindi anche da questo punto di vista tempo poco ci dovrebbero essere degli aggiornamenti nel merito e per il resto nulla per l'ennesima volta Santoro ha fatto capire quanto tutto quanto potrebbe essere racchiuso probabilmente in tutta tranquillità anche sotto il termine di porcata ma la cosa non stupisce e vedremo quelli che saranno gli aggiornamenti detto questo ragazzuoli nulla io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine forza qua ciao 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 ciao